Entro il 2 settembre le regioni dovranno rivedere i piani per la gestione del trasporto pubblico locale in vista del 13 settembre data di riapertura delle scuole. L'aggiornamento si baserà sulle linee guida condivise tra governo e enti locali negli ultimi giorni. Il pacchetto di prescrizioni e di indicazioni è al momento ancora al vaglio del CTS. Tra le linee guida inviate anche il ritorno del controllore che dovrà accertare l'applicazione delle norme anti-covid ovvero distanziamento e uso delle mascherine ma anche la capienza massima dei mezzi all'80 per cento a patto di essere regione in zona bianca o gialla. Su questo punto ma anche su altri sono tante le perplessità che arrivano dai sindacati. Sentiamo Franco Rolandi della Filt CGL. Io aggiungerei anche un paradosso perché dire 80 per cento in un qualsiasi autobus ma contemporaneamente garantire la distanza di un metro come la mettiamo? Ma infatti questo è un paradosso che ci trasciniamo anche questo da da circa un anno in una nota che lo stesso ministro Speranza ha trasmesso alle prefetture ricorda appunto che dal primo settembre sarà possibile riempire i pullman fino all'ottanta per cento ma ribadisce comunque che vada rispettato l'obbligo del distanziamento di un metro. Ci chiediamo come sia materialmente possibile far rispettare un metro di distanziamento riempiendo il pullman all'ottanta per cento. Sempre sui controlli chi dovrebbe effettuare questi controlli? Ma anche qui abbiamo assistito a dichiarazioni del ministro Giovannini e il ministro dei trasporti che prevede diciamo un largo utilizzo dei cosiddetti controllori che dovrebbero a questo punto oltre a controllare il titolo di viaggio controllare il green pass per i servizi a lunga percorrenza e quindi non parliamo del trasporto pubblico locale delle città ma dovrebbero anche fare tutta un'altra serie di adempimenti che attengono il controllo delle norme covid. In una situazione in cui i controllori mancavano già da prima ancora che arrivasse la pandemia io cito solo un dato nell'azienda regionale di trasporto ad esempio nel servizio urbano attualmente ci sono soltanto sei controllori che gestiscono che si occupano del controllo dei titoli di viaggio per tutta l'area metropolitana di Pescara. Altro grande sforzo richiesto quello di agire sugli orari diversificati delle scuole ma anche di uffici e negozi. Al momento noi riteniamo che l'unico modo per cercare di risolvere il problema sia quello di diversificare l'orario d'ingresso delle delle scuole. Mi sembra che a Pescara nell'incontro che c'è stato con la prefettura e le parti sociali si stia perseguendo questa questa modalità ci chiediamo che un analogo confronto avvenga anche nelle altre prefetture abruzzesi perché al momento ripeto questo confronto c'è stato solo con la prefettura di Pescara e le parti sociali. La riflessione infine si sposta anche sul mancato utilizzo di ingenti risorse. Si è parlato sin dall'anno scorso dei servizi aggiuntivi e da quanto ci risulta degli oltre un miliardo e cento milioni stanziati nei governi che si sono succeduti in questi anni sono stati utilizzati appena 200 poco più di 250 milioni cioè appena il 22 per cento delle intere risorse stanziate.